Si avviciniamo al tavolo 29 di questo Day 1C e inquadriamo Fabrizio Biccio Ascari. Gli abbiamo messo anche un microfono, così possiamo sentire quello che dice. Visto che è come se tu fossi qua vicino a me, come sta andando il torneo? Il torneo, chiedo scusa abbasso la musica, non si sente la musica nel microfono. È preso abbastanza bene perché poi io come al solito esagero e quando esagero la prendo Bip, quindi anche al suo devo recuperare, con calma c'è tempo. Ho aperto il quadro dei giocatori qui al tavolo più o meno ce l'ho e vediamo cosa succede. UTG più 1, Ascari apre. Apertura 1200, gioca il giocatore a sua sinistra in position. Uno spot in e-zap, ricorda che Ascari è munito di microfono, quindi potete sentire tutto quello che dice durante lo spot. 9, 3, 4 il flop con due fiori, parola Ascari. Ascari stranamente silenzioso, molto lento nel metterle cibo. 2004. Ha commentato anche la lentezza della mano, della puntata. Il suo avversario decide di fare call, quindi rimangono in e-zap, 9, 3, 4 con due fiori, da un 8 di quadri. Gli Ascari. 5.600, batte il suo avversario e Ascari va in dettaglio. Sto per fondare, ragazzi. Sto per fondare. Chiara di fondare è fonda. Ma stretto di mano tra i tuoi giocatori. Sì. Quindi, come hai giocato questa mano, Bici? Secondo te? Non benissimo. Vabbè, ci possiamo rifare, dai. Seguo un'ultima mano, poi ti lascio in pace, giuro. Grazie. Mi sai che non è che porta bene bene? Ma non è che porta bene o porta male, è che... È una questione che... con l'Under the Gun. Si appoggia anche il battone, parola da Small Blycer. Abbiamo 5 giocatori con questo l'impato. 9, 9, 9. La bet di Bici è 2.000. C'è il jazz col del bottone. Quindi rimaniamo sempre il trap e Bici. È nella mano. Andiamo a vedere il trap. È un jack di cuori. un altro. Un jack di cuori. Un jack di cuori. Un jack di cuori. Un jack di cuori. io sono due e signora Scari mostra quattro quinti grazie per il signore ma ti voglio bene ragazzi ok ti puoi cavare